Tiene sempre banco a Catania la questione dell'aumento della sosta oraria prevista all'interno del contratto di servizi con la sostare, un tema che sarà avvaiato dal Consiglio Comunale martedì prossimo. Oggi intanto nella sede di ConfCommercio si sono riuniti i presidenti delle varie circoscrizioni per uno scambio di opinioni sull'argomento e condividere un percorso che eviti l'aumento fino a 80 centesimi l'ora. L'augurio è quello di annullare l'articolo 3 della convenzione, ovvero l'aumento della sosta oraria con una proposta alternativa e valida. La proposta di ConfCommercio in ordine al contratto che l'amministrazione comunale vuole fare con sostare è un atto che vogliamo bloccare nella misura in cui prevede degli aumenti tariffari che graverebbero sui cittadini ma anche sulle imprese commerciali e sul sistema commerciale della città. Incide sulla viabilità perché prendiamo il caso della terza circoscrizione che ha tre porte di accesso fondamentali via Incenzo Giuffrita, via Le Vittorio Vede e via Passo Crevina, non fa che altro che aumentare ancora di più il traffico perché poi alla fin fine non incide sulla viabilità, incide solo sul costo dei cittadini e penalizza i commercianti.